Guys, Giacomo James, ready he is to react to Harvester of Sorrow, live in Moscow after reacting the studio version with lyrics and a little Italian for my Italian friends ragazzi ho detto che la partenza della canzone è stata subito bella dentro con dei bay leaf, con un basso sotto, con un interessante arpeggio di basso di chitarra il batterismo molto tirato, molto a diritto, con una grande valorizzazione del timpano durante tutta la canzone e di questo rullante usato proprio come fa spesso lui e poi questo roar con la voce al minuto 3 quadri fa e parte da solo e poi una outro prolungata con la ripetizione mi è piaciuto, mi è piaciuto questo pezzo, sono metallica veraci questi e poi siamo arrivati, go! You know the Oscar, we're having some fun today! Andiamo! Ancora Andiamo! Andiamo! Oh my no! Andiamo! 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 Oh my god ah guys you saw the police inside here oh man these helicopters the police and this public it is an ocean of people oh 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 my lord and this bass player is full of energy and this young James Hetfield here with this lion roar to start again oh wow magic drumming oh guys the police was beating someone this is wild crazy it is absolutely crazy one million people there it's a bit of pain and it's because of my name oh yeah and this is also an historical document this one it is also an historical document because you see csi uh after cccp uh urss soviet union uh after the collapse of the system here in moscow harvester of sorrow you can see also some historical images and there as a graduated in history i appreciate this one this is a big document back to this drum fill and this roar oh 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 are you kidding me wait i know it is not over the video clip but this is just something incredible you saw this police beating these guys and they are still there oh man helicopters everywhere they also took some pictures to to focus someone there there oh oh my lord and this roar this powerful song here oh oh man come on this is wild crazy oh i i i i i i i i i are you kidding me also the police in the pogo in the crowd someone with the sad with the sad cop there and another one is in the pogo are you kidding me two cops corrupted in the pogo and one said that don't know what to do no more oh 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 my lord oh 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 my lord yeah this is the power the liberation the this is the liberating power of music this is a big one maybe the best reactions i did to metallica so far these two corrupted cops here in the pogo in the pogo excited as hell for this brutal trash uh amazing powerful energetic stunning performance here this is the best present music can do to the society you can see oh man oh man a sad cop that way maybe he don't like metal music asking himself what i have to do more now i have to do more now two of my uh man colleagues my brothers are there in in into the crowd acting like crazy fool guys oh man this is such an incredible show my lord oh man this is the power of music with this this frustrated people there are finally free thanks to this man and all the band and lion roars from the start to the finish by him all was excellent inside here powerful 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 a little italian please and then push the window down below now to discover all the reactions i made so far to metallica to dig inside if you push the window uh you will see all the reactions i made so far to metallica and you will have fun but before a little italian ragazzi ora vi faccio toccare giù per vedere tutte le altre reazioni che ho fatto a metallica ma prima vi devo commentare questa ho detto uno show pazzesco di una potenza brutale immane di heavy metal di trash metal ma quello che è il bello di questa roba è anche il documento storico che ti arriva era il 1991 l'implosione dell'unione sovietica la dissoluzione dell'urs si era creata la comunità degli stati indipendenti c'era ancora uno stato di polizia avete visto gli elicotteri il sorvegliamento le botte le busse che prendono sta gente qui e alla fine quando vedi due poliziotti russi in mezzo alla folla a cantare e sultare e divertirsi con gli altri con quell'altro poverino di sbicottito che non sa cosa fare forse non ama il metal lui gli altri si ti fa capire qual è la potenza della musica anche di rompere gli schemi di rompere di rompere certe cose questo leone qui ha cantato e ha ruggito dall'inizio alla fine e tutto è stato spettacolare l'energia del batterismo, il bassista l'assolo di chitarra molto bello fatto dall'altro chitarrista dopo l'ennesimo roar di quest'uomo fantastico tutto splendido una delle più belle reazioni anche per il contesto di questo milione di persone di dentro wow oh my lord see you next time guys push the window now to watch all the reactions I made so far to Metallica and have fun ragazzi alla prossima per mettere ora la finestra e vedere tutte le reazioni che ho fatto a Metallica fino ad oggi divertitevi ciao